Musica Video news di martedì 30 luglio, i titoli Dopo l'incendio in un capannone industriale di Piediripa, le persone evacuate sono rientrate oggi a casa. Dal 9 all'11 ottobre Ancona sarà capitale mondiale della sanità con il G7 Salute e oltre 40 appuntamenti. Il comune di Tolentino presenta il nuovo piano particolareggiato delle aree storiche e nello sport nel 2019 a Tolentino alla 24 ore di nuoto Arena c'era anche il campione olimpico Nicolò Martinelli. Ben trovati anche oggi all'appuntamento con il video news. Alle ore 22 circa di ieri i poliziotti della volante di Macerata sono intervenuti in viale Puccinotti dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una donna. Sul posto gli agenti hanno trovato personale medico che stava prestando le cure ad una cinquantenne che con il naso sanguinante e profondamente scossa ha riferito di essere stata aggredita poco prima dal proprio compagno nel frattempo allontanatosi. La stessa ha raccontato agli agenti che dopo essere usciti da un ristorante del centro ed essere saliti in macchina si era accorta di aver dimenticato il cellulare nel doppiale. Aveva chiesto quindi al compagno di tornare indietro per riprenderlo suscitando l'ira di quest'ultimo che dopo averla aggredita verbalmente l'aveva colpita in varie parti del corpo sferrandole anche un pugno al naso. La donna era riuscita a scappare dall'auto e subito dopo è stata tratta in salvo da una coppia di ragazzi che erano lì di passaggio. Subito i poliziotti si sono messi alla ricerca dell'uomo che veniva rintracciato poco lontano mentre cercava di nascondersi all'interno della propria auto. Lo stesso, identificato in un 49enne della provincia di Macerata, è stato condotto in questura e arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose. I carabinieri gli sequestrano la casa di proprietà, l'auto e i soldi che ha sul conto corrente. Un puscere 27enne è così finito nei guai. È l'esito di quanto previsto da un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Macerata a seguito degli accertamenti di tipo patrimoniale svolti dai carabinieri del Comando Provinciale sul Giovane, arrestato lo scorso 15 marzo. In quell'occasione, a Villa Potenza, il 27enne di origine straniera e residente in provincia, era stato trovato con circa 265 grammi di cocaina e 350 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. A ciò si aggiungeva un telefono cellulare e la somma in contanti di 25.400 euro, provento sicuramente dell'attività illecita. Dopo l'incendio che ha colpito un capannone nel pomeriggio di ieri a Piediripa, sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento e l'area interessata è sotto monitoraggio dei vigili del fuoco e della polizia locale. Le autorità hanno provveduto a mantenere alta la sicurezza nella zona e a garantire la riapertura delle attività commerciali e della viabilità. Il rogo, che ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato, ha costretto all'evacuazione nove persone. Fortunatamente non si sono registrati feriti. In seguito alla riunione di questa mattina in prefettura Macerata, gli evacuati sono potuti rientrare nelle loro abitazioni sin da oggi. Giornata di volontariato organizzata dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini al Lago di Pilato per salvare il chirocefalo delle Marchesoni. È quanto organizzato dall'ente lo scorso 26 luglio per allestire una delimitazione lungo l'intero perimetro del bacino che in questi giorni si è prosciugato mettendo a rischio la riproduzione del piccolo crostaceo rossiccio che in tutto il mondo vive solo nelle acque di questo bacino. Il monitoraggio condotto dal Parco tramite l'Università di Perugia sin dal 2018 ha evidenziato che il Lago di Pilato sta assumendo nel corso del tempo un crescente carattere di temporaneità soprattutto dopo il 2016. Ancona si prepara al G7 Salute con oltre 40 eventi dedicati alla sanità promossi dal comune e dalla regione. Un'occasione epocale accolta con orgoglio e responsabilità dai leader locali. Scopriamo quindi di più nel servizio. Un corollario di oltre 40 appuntamenti sui temi della sanità per conferire ad Ancona e alle Marche un ruolo ancora più rilevante nel G7 Salute programmato proprio nel capoluogo da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre. La città non resterà a guardare, anzi già da giovedì 3 e fino al 13 ottobre promuoverà il Festival del Vivere Bene da ogni punto di vista che è stato rinominato Extra G7 Salute. Gli appuntamenti sono stati presentati a Palazzo del Popolo dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti e dall'assessore ai servizi sociali Manuela Caucci, dal governatore Francesco Acquaroli con il vice e assessore alla salute Filippo Saltamartini e il sottosegretario alla presidenza di giunta Aldo Salvi nonché università, enti, aziende ospedaliere, associazioni e categorie del mondo della sanità che robustiranno il corollario degli eventi per accogliere i leader delle potenze mondiali. Sicuramente avremo gli occhi di tutto il mondo puntati su Ancona e sulla nostra regione quindi è un grande orgoglio ma anche una grandissima responsabilità. Si tratta di un evento a livello istituzionale tra i più rilevanti e si tratta di una materia che probabilmente è tra le priorità di tutti quindi in termini anche dell'agenda politica quindi credo che sia veramente quello del G7 di ottobre un'occasione straordinaria per far crescere la capacità e la notorietà della nostra regione ma anche e soprattutto per raccogliere la sfida della sanità perché sarà un'occasione di incontri, di confronti, di concertazioni dove noi possiamo portare il nostro know-how possiamo anche evidenziare quelle che sono state le criticità e anche capire quelle che possono essere delle soluzioni aggiuntive perché avremo qui non solo gli occhi puntati ma anche tutte le migliori intelligenze a livello globale le migliori tecnologie, le grandi personalità che insieme al G7 di solito contribuiscono ad arricchire il calendario anche non istituzionale quindi veramente un grandissimo lavoro svolto io voglio ringraziare il governo Menoni, il ministro Schillaci perché non era scontato che al centro di questa scelta ci fosse una città come Ancona e una regione come la nostra la regione può uscire assolutamente in maniera migliore se sapremo cogliere non solo la sfida organizzativa ma se sapremo metterci a confronto con tutte quelle che saranno le personalità che verranno ad Ancona e le istituzioni che saranno ad Ancona che innescheranno un dibattito e questo dibattito ci dovrà avere aperti e partecipi partecipi per dare il nostro contributo ma aperti ad eventuali soluzioni che finora noi non abbiamo individuato questo sarà un incontro molto anche istituzionale ma anche molto tecnico e professionale quindi ci sarà veramente una straordinaria occasione io ripeto, credo che a mia memoria un incontro così importante nella nostra regione difficilmente sia svolto ci saranno responsabili dei governi delle più importanti nazioni al mondo quindi ecco, credo che tutti noi lo sentiamo e credo che tutti noi dobbiamo sentire la responsabilità e l'orgoglio per il G7 La convention inaugurale con vista sul G7 Salute si terrà giovedì 3 alle ore 17.30 al Teatro delle Muse sarà presente il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato nei dieci giorni interverranno anche prestigiosi professionisti del mondo sanitario Un protocollo d'intesa per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto alle irregolarità e frodi sulle assegnazioni in debite di borse di studio e alloggi per studenti universitari è stato siglato nella sede regionale in presenza dell'assessore all'università e al diritto allo studio Chiara Biondi tra l'ente regionale e il comitato regionale Marche della Guardia di Finanza Il documento rafforza il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e incentivo per le quali è già stato perfezionato l'iterre di concessione di competenza in questo caso dell'ERDIS La giunta regionale ha provveduto anche alla nomina di Stefania Bussoletti attualmente capo dipartimento sviluppo economico a direttore facente funzioni dell'Agenzia per il Turismo e l'internazionalizzazione delle marche nelle more dell'espletamento della procedura d'interpello Bussoletti dal 1 agosto superentrerà a Marco Bruschini attualmente direttore dell'Agenzia regionale Fino alla nomina del nuovo direttore inoltre le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'ATIM saranno affidate a Paola Marchegiani dirigente del settore turismo Bruschini assumerà un prestigioso incarico al Ministero dell'Agricoltura Domani 31 luglio a partire dalle ore 10 e fino alle ore 13 la Funzione Pubblica CGL e il SILP CGL organizzano un presidio in piazza del Plebiscito ad Ancona per sostenere le rivendicazioni dei lavoratori del comparto Sicurezza e Difesa che nella ragione conta circa 8.000 addetti tra Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guarda di Finanza e via dicendo nonostante le richieste da tempo sollecitate il governo non ha avanzato alcuna proposta significativa per quanto riguarda il rinnovo del contratto per questi motivi si mobiliteranno in tutta Italia le due federazioni dei comparti Sicurezza e Difesa in occasione del presidio è stato richiesto un incontro al prefetto di Ancona per meglio illustrare lo stato del rinnovo del contratto nazionale nel corso di una conferenza stampa il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ed il vice sindaco e assessore all'urbanistica Alessia Pupo hanno illustrato le maggiori novità che riguardano il piano particolarizzato delle aree storiche scopriamo quindi di più nelle interviste realizzate da Luca Romagnoli Presentate ufficialmente questa mattina tutte le novità che riguardano il nuovo PPAS ossia il piano particolarizzato delle aree storiche è un atto corale che viene fatto da professionisti e richiesto dalla città sostanzialmente è un'opera che facciamo a nome e per conto e a tutela della città per conservare quello che la storia ha depositato su questo nostro territorio e noi con una fase di ricostruzione una ricostruzione ordinaria parliamo non di sisma ci mettiamo nelle condizioni di regolamentare non tanto la volontà personale ma la, diciamo così, la bellezza la continuità della bellezza nell'arco storico è un documento che ci dà la possibilità di rendere omogene le zone e lasciare il nostro centro storico così bello e variegato così com'è perché abbiamo veramente, come dicevo prima delle pennellate che sono del 300 altre sono del Rinascimento altri invece sono dell'Art Deco fino ad arrivare al ventennio per passare poi a un 800-900 che è una costruzione seppur povera ma sempre in mattone con le sue belle definizioni ecco, questo piano tende alla valorizzazione di questo nostro patrimonio che abbiamo sulla nostra città Alessia Bupo, Vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica oggi è un momento particolarmente importante per la città perché è stato presentato ufficialmente il nuovo piano particolareggiato per le aree storiche uno strumento importantissimo per la qualità urbanistica del nostro cuore pulsante sì, è un piano cui abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento e che oggi finalmente vede l'adozione l'ITER è stato un l'ITER molto complicato da un punto di vista tecnico-amministrativo era particolato con la precedente amministrazione e noi abbiamo voluto fortemente completare lo studio e portarlo oggi in adozione cos'è in sintesi? sono degli strumenti, delle norme che ci auspichiamo consentano elevati standard di attività edilizia ordinaria all'interno del centro storico quindi parliamo di norme tecniche che riguarderanno sia gli spazi che gli edifici stessi sempre all'interno del centro storico ci siamo mossi su alcune linee, alcune direzioni innanzitutto quella di conservare, di voler conservare la bellezza del nostro centro storico che è un unicum particolare quindi delle norme che prevedano la conservazione e il restauro degli edifici stessi e che ci sia anche traccia poi dell'evoluzione che c'è stata nel centro storico stesso però delle norme che tengano in particolar considerazione naturalmente la sicurezza ma anche la possibilità di interventi innovativi alla luce delle nuove tecnologie quindi questo servirà secondo noi ad avere un centro storico come luogo bello dove però è anche possibile vivere bene gli edifici sono in sintesi, cerco di spiegarlo in maniera molto semplice gli edifici sono classificati in base alla loro conformazione e ci sono poi in base appunto alla loro classificazione poi delle norme tecniche che prevedono e dicono cosa si può e non si può fare su quell'edificio stesso un iter complicato io mi sento di ringraziare naturalmente come ha già detto il sindaco è un lavoro corale, tutti i tecnici che a vario titolo si sono interessati la cittadinanza perché questo è stato anche preceduto da un momento di condivisione pubblica e la progettista e la commissione urbanistica che da ultimo ha approvato all'unanimità il piano facendo naturalmente anche delle osservazioni era un preciso obiettivo del mandato amministrativo della giunta sclavi e quindi oggi siamo contenti di poterlo portare in adozione il camerino festival 2024 giunto alla sua conclusione promette un finale grandioso con l'evento del primo agosto organizzato dall'associazione culturale musicando il festival ospiterà alle 21 e 30 presso l'accademia della musica di camerino ABF Corelli l'esibizione dei filarmonici di Busseto un ensemble composto da rinomati musicisti il loro repertorio per la serata includerà brani di Verdi Piazzolla, Rota, Gershwin e Ravel promettendo una serata di musica emozionante e di alta qualità prima del concerto alle 18 Corrado Giuffredi incontrerà gli studenti per un momento di scambio culturale ed artistico ancora una prima nazionale domani mercoledì 31 luglio dalle ore 21 e 30 al Teatro Rossini per il festival Civitanova Danza in scena prelude della compagnia francese Acro Rap diretta dal coreografo Caderato uno dei maggiori esponenti della danza hip hop il virtuosismo dei danzatori dialoga con la musica e i corpi sembrano unirsi in un unico movimento uno spettacolo di forti emozioni un viaggio coinvolgente che conduce ad una sorta di liberazione finale e si è concluso con il varco sul made in piedi a cantare Born in the USA di Bruce Priesting la quattro giorni del festival Rock Sofia che a Civitanova ha esplorato le declinazioni del muoversi tra musica, filosofia, arte e sport un viaggio culturale che ha saputo passare la staffetta dei vari linguaggi della contemporaneità mescolando Platone, Mohamed Ali, Arnold Schwarzenegger e Carla Fracci, il calcio e Jean Paul Sartre e poi le canzoni della Factory a sogellare come la musica sia una componente imprescindibile nell'epica dello sport per la sua quarta edizione ha voluto indagare l'altra eccezione della parola rock quello scuotimento che col festival è diventato invito all'azione indispensabile tanto al corpo quanto alla mente ma la chiusura è stata tutta dedicata alla musica con un omaggio a Spristing con Carlo Massarini e la direttrice artistica Lucrezia Ercoli che hanno saputo regalare ai fan del Boss a corsi da tutta la regione due ore con i brani più iconici dell'artista e la biografia speciale tratteggiata da Massarini è iniziato con successo domenica scorsa il dodicesimo festival d'estate a Palazzo Claudi serata ad apertura a Serra Petrona a cui hanno assistito più di 200 spettatori tra cui il sindaco Silvia Pinzi che ha portato il saluto della comunità ma scopriamo di più nel servizio di sintesi che vi proponiamo è stata un successo a Serra Petrona la prima serata del festival d'estate a Palazzo Claudi di domenica 28 luglio organizzata dall'omonima fondazione con la direzione artistica del maestro Michele Torresetti un classico romantico ha proposto musiche di Chopin, Mozart e Brahms maestri concertatori in duo e poi in trio sono stati Michele Torresetti al violino Matteo Torresetti alla viola e Alessandro del Giavan al pianoforte Siamo veramente molto soddisfatti di questo inizio di una serata inaugurale di questa dodicesima edizione del festival d'estate a Palazzo Claudi Siamo arrivati alla dodicesima edizione è stato un crescendo forse in questi ultimi anni da tutti i punti di vista sia come partecipazione di pubblico sia come qualità delle opere ricercate che noi vogliamo far ascoltare musicisti sempre di grande livello insomma veramente il pubblico sta apprezzando dobbiamo ringraziare la regione che contribuisce collabora per la realizzazione e anche come sostegno per la realizzazione di questo evento che si abbina anche ad altri eventi che la Fondazione Claudi sta facendo in ambito nazionale Nell'intermezzo il poeta Davide Rondoni ospite della serata ha descritto il piccolo festival dell'essenziale che si svolgerà a Roma nel complesso dei Piceni a San Salvatore in Lauro l'11 ed il 12 ottobre prossimi Rubo la tua bocca all'aria e l'aria di quell'assenza lascia traccia più splendente ovunque la tua evidenza è stata una bellissima serata di musica di arte l'arte è una e ha tante forme io ho fatto un piccolo intervento di poesia per la mia arte questa cosa stramba che è la poesia e il musicista è di brevissima ha fatto un programma ardito che il pubblico a San Petrono ascolti un programma ardito di musica classica è un segno molto bello è un segno di prestigio per il posto per il comune e per la Fondazione Claudi che ha l'azzardo di promuovere queste cose questa atelier di poesia che si fa tutti gli anni in vari posti d'Italia c'è il premio delle stanze del tempo che stiamo valutando adesso come giuria per una raccolta da pubblicare di un giovane poeta Under 30 e poi ci sono altre iniziative che hanno a che fare con la poesia perché Claudio Claudi oltre a essere forse essendo soprattutto un pensatore delegava in qualche momento alla poesia la sintesi del proprio pensiero Nella prossima serata noi avremo come ospite anche il presidente della Fondazione Rossana e Carlo Pedretti Pedretti era il più grosso studioso Leonardo da Vinci ci dirà anche qualcosa in particolare sugli eventi e le iniziative che la Fondazione Pedretti sta facendo io sono anche vicepresidente di questa fondazione posso dire che merita di un'attenzione e quindi sarà anche una sorpresa grazie a tutti e la prima serata del Festival d'Estate sarà trasmessa su Canale 16 proprio questa sera a partire dalle ore 21 in forma integrale e verrà poi riproposta anche domani mercoledì 31 luglio a partire dalle ore 13 e 30 circa dopo la serata inaugurale che ha registrato una grande affluenza di pubblico il Festival d'Estate a Palazzo Claudi replica domani sera alle 21 e 15 sempre ad ingresso libero con il concerto dedicato a Il Canto di un Popolo musiche di Schumann e Zorak in pedana Michele Torresetti e Andrea Mascetti al violino Matteo Torresetti alla viola Giacomo Grava al violoncello ed Alessandro Del Giavan al pianoforte prima nel duo violoncello piano poi nel quintetto d'archi e piano seguirà un brindisi conclusivo a base di vernaccia e dolci del luogo sarà ospite della serata il professor Regino Tarozzi docente universitario di filosofia della scienza e presidenze della fondazione Rossana e Carlo Pedretti interverrà per presentare alcune iniziative che coinvolgono il territorio infatti verrà annunciato il convegno di studi sul teatro del 500 e 600 che esiterà in autunno a San Severino il terzo ed ultimo concerto della rassegna è fissato per sabato 3 agosto e avrà il tema del folklore virtuoso con musiche di Ravel e Bartok la rassegna lo ricordiamo è il patrocinio della regione ed è organizzata con il comune e l'associazione Utremi Ollus domani ultimo appuntamento con i mercoledì dello shopping a Tolentino a partire dalle ore 20 animazione in centro storico in negozi aperti con esibizioni di danza sport ed intrattenimento per famiglie dalle 22.30 in piazza si balla con Friendship Emiliano F DJ Guaz in piazza Mauruzzi Giussi Minnozzi e diretta radiofonica con Bimas in piazza Martiri di Montalto concerto Staff Enof Rock and Soul Band in via Buonaparte Riù e i laboratori del riuso e lo spettacolo di bolle di Magica Nadia infine in piazza Mauruzzi dimostrazione di Soft Air grande novità il servizio bus e navetta che collega il centro città di Tolentino con San Severino Marche Caldarola e Belforte del Chienti e la città di San Severino si prepara a vivere una serata bellissima nell'ambito del cartellone Summer Time organizzato dall'amministrazione con la Proloco venerdì prossimo 2 agosto nella suggestiva cornice di Piazzale degli Nueducci a Castello Almonte Mafalda Minnozzi presenterà cantautori dell'infinito note che uniscono mondi cuori che cantano storie Mafalda accompagnata dal chitarrista new yorkese Paul Ricci e dal contrabassista offidano Matteo Grandoni guiderà gli spettatori in un viaggio musicale che attraverserà epoche e continenti unendo cuori e storie attraverso le note il repertorio originale è stato scelto appositamente per questo concerto inedito vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa lo sport previsioni per mercoledì 31 luglio cielo sereno poco nuvoloso con precipitazioni assenti temperature lieve aumento nei valori massimi venti deboli dai quadranti settentrionali mare poco mosso a Grazie a tutti.